Il PD riparte dai Pifani, la fragile tregua interna, si poggia sulla candidatura per la segreteria dell'ex leader della CGL, primo segretario che non appartiene alle due anime che hanno dato vita al PD, di esse popolari, ma viene dal partito socialista. Fuori i manifestanti di Occupy PD chiedono ai dirigenti spiegazioni per la svolta di governo. Rappresento gli elettori, certo, interpreto la sera, la fase fede al patto elettorale, ma torneremo dagli elettori. Apri gli avori il segretario uscente che chiede al PD una nuova partenza insieme, punta il dito. Io voglio qui solo ribadire che queste dimissioni non sono state un gesto personale, se ci conosciamo in tutti questi anni, avrete capito che a me i gesti personali non piacciono. Per me queste dimissioni sono state un gesto politico. Arriva Epifani che mette in campo tutta la difficoltà del suo incarico. Ho dato una disponibilità, certo, per spirito di servizio. Ma il partito già si divide sul suo ruolo. La tregua fragilissima presuppone che traghetti il partito al congresso e poi si faccia da parte. Lo dicono più o meno esplicitamente le varie anime, pronti a riarmarsi le une contro le altre, ma non qui ed ora. Renzi nel suo intervento lo chiama traghettatore e al suo partito, stretto nel governo, lancia una sfida. È un governo guidato da uno di noi, è un governo a cui siamo, ahimè, obbligati. Non mi interessa in questo momento capire le tacche della batteria quanto dura ancora. Mi interessa capire se questo governo lo subiamo o lo guidiamo. Se lo subiamo noi stiamo regalando l'ennesimo calcio di rigore al presidente Berlusconi. Questo per una volta sono d'accordo con Renzi. È importante che il PD non subisca questo governo, che detti l'agenda politica e che obblighi il governo a fare qualcosa di utile. Terminata la raccolta delle firme in questi minuti, alle due si apriranno le votazioni. Epifani è l'unico in corsa. Cuperlo, il dalemiano impallinato dei veti, annuncia arrivando la sua candidatura per il congresso. Il PD prova ad archiviare una giornata difficile, destinata a vivere momenti di disagio nel pomeriggio quando gli alleati di governo del PDL manifesteranno a Brescia contro i giudici. Credo che sia un fatto che rende più difficile il percorso del governo. Credo che sia un fatto che rende più difficile il percorso del governo.